Tamponi rapidi utilizzati largamente ignorando lo studio del professor Crisanti, secondo il quale il 30% dei positivi sfugge a questo test e poi il tracciamento dei positivi con la stragrande maggioranza dei casi classificati dal sistema informatico regionale come asintomatici senza nemmeno essere stati contattati. L'inchiesta di report getta ombre sulla gestione della seconda ondata della pandemia in Veneto ed irrompe nella quotidiana conferenza stampa del governatore Zaia a partire dal fuorionda del dottor Flor che a proposito dello studio di Crisanti dice di averlo nascosto per timore di cause legali da parte dell'azienda che produce i test rapidi certificati come validi dal ministero. Penso che qui ci siano delle responsabilità personali, cioè non è che io posso discutere sull'atteggiamento di un primario di Flor perché non sono tutte attività che non mi competono. Certamente chiederemo cosa intendeva dire perché lo studio c'è o non c'è e se c'è è uno studio oppure non è uno studio. Ad entrare nel merito dello studio Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Lo studio ha evidenziato che ci sono un tipo di variante che in una certa fase era effettivamente abbastanza diffusa in Veneto che ha delle mutazioni che la rendono invisibile ai test antigenici. Lo studio ipotizza che l'uso dei test antigenici possa aver fatto aumentare a di smisura questo tipo di varianti. In realtà dai nostri dati che sono ancora in corso di approfondimento, quindi la mia è una valutazione preliminare, non sembra che questa variante sia cresciuta particolarmente, nel senso che dalla metà di dicembre in poi, anzi, la sua prevalenza è stata praticamente azzerata. A spiegare i problemi con il tracciamento dei positivi, la responsabile della prevenzione regionale. Le disposizioni prevedono che su 100 persone positive almeno il 60% debba essere chiamato dalle ulse per stabilire se hanno sintomi o meno. Questi dati vengono poi trasmessi al Ministero e vanno ad incidere sugli indicatori che determinano il colore della regione. È successo che nel periodo in cui avevamo moltissimi casi ci siamo resi conto che molti soggetti non erano stati presi in carico. Quindi abbiamo caricato tutti questi soggetti indicando uno stato che era asintomatico, che doveva essere confermato per essere conteggiato dall'azienda o come asintomatico oppure come sintomatico. Zaia sottolinea di non aver nascosto nulla. Io non vedo negativamente il lavoro che ha fatto il report, se volete che vi dica la mia opinione. Lasciate perdere il trattamento che uno può dire mi sento colpito nell'intimo, questo ve lo posso anche dire, ma alla fine dimostra una roba che l'amministrazione è sempre trasparente.